Allora, ci sono due parti, il re e i ribelli. L'obiettivo del re è arrivare ai bordi della scacchiera, quindi uscire dalla sala dei banchetti. L'obiettivo dei ribelli è arrivare a fare... Quadrato contro il re. A circondare il re su quattro punti. Ok, mentre se fossi in diagonale non va bene? Non va bene, cioè in diagonale no, tipo così no. Perfetto, sì sì, ok, a croce. A croce. E... Dopodiché. Tutte le pedine si muovono come la torre negli scacci. Quindi solamente in alto, cioè in verticale all'orizzontale. Tutte le pedine possono mangiare un'altra piedina circondandola su due lati. Capito. Mentre se io per caso facessi così, non mi può mangiare? No, così non può, così, cioè mettendone due sullo stesso lato si evita di essere mangiati. Vuole prendere i ribelli o il re? Vuole prendere i ribelli o il re? Faccio, chi facciamo, il re o il ribelli? Eh già, prendiamo già. Ok, quindi inizio prima io perché i ribelli iniziano così. Ok, quindi prima inizio il dato. Il taco. Torniamo a se ritrovavate il barco della crappia che è cappettissima. Eh, facciamo una vita. Questo. Questo qui ce lo mangiavano, giusto? Sì. No, no, tocca al dado. Noi abbiamo appena mangiato. Eeeh... Allora, vi aspettiamo ai gran storici delle sfide. Siamo tutti lì. Sforza, le seri. Alla seri. Lo scopo è mangiarmi tutti i ribelli, giusto? No, lo scopo è portare il re su uno dei bordi della scacchiera. In una delle posizioni dei ribelli. Capito. In un'altra cosa è la fondella. Perciò. In un'altra cosa è il cuore un po' di porta. In un'altra cosa. In un'altra cosa. In un'altra cosa. No, 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 no. Che, mangiavi. Che cosa. Allora, abbiamo detto che non posso moregli a하게嘛. portalo stupio guarda questo qui già già ragazzi bambini ecco lentamente che è molto Grazie a tutti. Grazie a tutti.